Ciao a tutti e benvenuti, benvenuti in questa vigilia di Europa League, in questa vigilia di Milan Stella Rosso in una giornata con tanti eventi rossoneri, eventi che naturalmente proviamo a commentare insieme e che naturalmente vengono seguiti con grande attenzione e con grande interesse anche da OneFootball che vi segnalo OneFootball è un importante portale con notizie italiane, europee e mondiali, calcio approfondito, calcio vissuto a 360 gradi OneFootball ha anche un'app che vi propone eventi live, partite e il tutto naturalmente gratuitamente l'app di OneFootball la potete scaricare dalla descrizione di questo video Allora in primis la conferenza stampa del nostro allenatore e Stefano Pioli sia durante la conferenza stampa che nelle interviste successive ha battuto su un tasto molto importante, molto chiaro Prima della famosa Spezia Milan in una stagione rossonera molto, molto, molto positiva Stefano Pioli ha dichiarato di sapere che ogni nostra partita, ogni nostro risultato veniva attribuito come merito al gol di Ivra o al gol di Cialanoglu o al gol di Leao o al gol di Rebic ma lui e la squadra hanno sempre saputo che quella vittoria e quei risultati, quelle strisce positive arrivavano per lo spirito di gruppo, per lo spirito di squadra e quindi da questo punto di vista Stefano Pioli ha aggiunto che a Milanello tutti hanno sempre saputo e il gruppo ha sempre saputo che tutto era frutto del collettivo Nella buona sorte, nella cattiva sorte, cioè nelle ultime partite scaricare tutto su un colpevole, naturalmente le domande e le risposte erano relative al nostro capitano ad Alessio Romagnoli e alla sua prestazione nel derby scaricare tutto su un giocatore, dare la colpa, individuare il caprio espiattore dopo una sconfitta non è giusto perché come si vince di gruppo e di collettivo si perde di gruppo e di collettivo per cui è molto molto importante anche e soprattutto per i tifosi del Milan tenere a mente e tenere fermo questo concetto perché naturalmente se la squadra funziona tutta bene, funziona tutta meglio è chiaro che anche il lavoro dei singoli, anche il lavoro dei difensori che risente in maniera particolare della fase difensiva fatta da tutta la squadra viene svolto in ben altra maniera Quella di oggi è stata anche la giornata dell'incontro fra il procuratore di Accancia Lanoglu ce lo riferiscono con dovizia di particolari ed immagini i colleghi che fanno molto bene il loro lavoro sul mercato e con gli appostamenti di mercato la giornata si era aperta all'insegna di alcuni siti che parlavano di fumata bianca io non avevo già nelle dirette che ho sostenuto nel corso della giornata particolari elementi per avvalorare questa tesi e infatti l'incontro si è concluso con un cauto ottimismo ma ancora con delle distanze fra le parti la mia sensazione, la mia opinione è che il Milan abbia fatto una buonissima offerta da Accancia Lanoglu un'offerta perfettamente in linea con i tempi che stiamo vivendo e con le possibilità, le opportunità che offre il Montengaggi Rossonero Montengaggi che per evitare di incorrere nella necessità assoluta di fare prestiti ponte o nella necessità assoluta di trovare acquirenti da un giorno all'altro è Montengaggi che va quindi salvaguardato che va quindi custodito con attenzione, monitorato con attenzione senza fughe in avanti che poi possono davvero portare a una situazione fuori controllo perché poi naturalmente è rinnovato un contratto ci sono tutti gli altri che poi fanno riferimento a quel tipo di contratto e quindi da questo punto di vista massima attenzione, massima prudenza e massima consapevolezza della situazione che sta vivendo il mondo e il calcio la nostra speranza naturalmente è che possa esserci il rinnovo che possa esserci l'intesa a Cancelanoglu e il Milan stanno bene insieme e ci auguriamo che questo possa trovare anche una sintesi una declinazione di carattere economico come in fondo si augurano tutti i tifosi del Milan e come tutti i tifosi del Milan trovano giusto che accada e sapete che in questo naturalmente non c'è da parte mia mancherebbe altro, nessuna vena polemica conoscete la stima nei confronti del giocatore e l'affetto nei confronti del ragazzo che provo da sempre e che sempre ho voluto assolutamente condividere con tutti voi che seguite con pazienza e con attenzione questo canale ogni giorno poi sapete di questi tempi ci sono anche tanti nuovi commenti commenti che per 21 giornate non ci sono stati non si facevano vedere non venivano qui a, come dicono i ragazzi come dicono i giovani, lurcare e invece adesso da due giornate a questa parte è finito l'intruppamento e quindi ci si fa vivi bene, bene, bene bellissima coerenza per cinque mesi tutti belli acquattati e poi si spunta all'improvviso ma anche questo fa parte del calcio e anche questo fa parte delle cose allora naturalmente purtroppo al mio malgrado non può esserci nessun video di casa rossonera su temi rossoneri senza parlare di Sanremo vuoi non parlare vuoi non parlare di Sanremo è diventato un affare di Stato a me non fa particolarmente piacere parlarne perché l'ho sempre dichiarato ne avrei fatto volentieri a meno di questa cosa ma visto che c'è poi e quando vedo accanimento insomma diventa diventa anche doveroso parlare dell'accanimento non soltanto della vicenda di cui avremmo fatto e lo abbiamo dichiarato candidamente dal primo minuto assolutamente volentieri a meno Zalatani Balevino invece è una persona molto intelligente non ha paura di questa scelta già ai tempi della MLS e dei Galaxy aveva fatto delle cose in tv si possono facilmente riscontrare sul web è chiaro che il nostro è un altro calcio ci sono altre abitudini c'è un'altra storia c'è un'altra c'è un altro mood un'altra esclusività e un'altra serietà del calcio rispetto agli spettacoli televisivi soprattutto nel vivo della stagione soprattutto a piena stagione ma questo era accaduto già in MLS Zlatan Ibrahimovic non ha paura che se ne parli e che diventi un caso anzi per togliere pressione ai compagni di squadra è assolutamente pronto a prendersi tutte le sue responsabilità e sa perfettamente Zlatan che c'è un solo modo io mi auguro che continui ad essere estremizzata questa vicenda che continui ad esserci accanimento su questa vicenda perché più va avanti l'affare di Stato Sanremo-Ibra più Zlatan entrerà nello stato d'animo di chi sa perfettamente che c'è un solo modo per uscire da questa vicenda fare i gol fare i gol gol che in questo caso varrebbero doppio perché sarebbero una sfida a chi fa le battute sulle canzonette a chi fa le battute sulle prove a Sanremo a chi cerca di essere il più spiritoso e il più fenomeno possibile sulle battute su Sanremo ecco le facciano queste battute vadano avanti a farle queste battute perché da quel che mi sembra di aver capito non possono fare altro che caricare Zlatan contro la Roma contro l'Udinese contro il Verona non nello specifico contro queste tre squadre ma insomma in campo nelle sfide contro queste tre squadre quindi avanti a chi ha lo spirito di patate più arguto a chi si sente in possesso delle doti di ironia più raffinate perché tutte queste battute tutto questo carico mediatico non farà altro che caricare Zlatan e Zlatan sa che da questa vicenda visto che non si può uscire evidentemente con la risoluzione del contratto stipulato prima di rinnovare con il Milan è bene ricordarlo perché poi c'è tanta gente tra virgolette che mette in mezzo il Milan ma il Milan se l'è un po' ritrovata questa situazione ha preferito rinnovare il contratto di Zlatan Ibrahimovic sapendo che c'era questa settimana qua piuttosto che non rinnovarlo per niente attualmente qualche sapientone che avrebbe fatto un'altra scelta c'è e va bene e si e si e si dichiari e si palesi Zlatan ha una sola possibilità di zittire tutte queste battute e di rendere meno assordante il caso mediatico che c'è e certamente non ce lo nascondiamo e sappiamo che c'è non viviamo nella torre d'Avorio fare i gol fare i gol tanti belli e importanti è solo così che si evita di farsi mettere spalle al muro dalle mediaticità di una scelta che sta facendo tanto discutere e che sta facendo parlare tantissimi forse anche troppi ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ci rivediamo domani dopo Minas della rossa di Europa League grazie a tutti